solo in un cesto e d'altra parte non sono gli Stati Uniti che possono integrarci con tutti i prodotti che ci servono. Ovviamente, attenzione, nello stesso tempo io sono quel Presidente del Consiglio che ha costruito un perimetro di sicurezza nazionale con la Cold Empower molto più robusta rispetto al passato per difendere i nostri interessi nazionali. Allora, Presidente, voglio tornare un attimo alle questioni che riguardano più l'Italia perché insieme al Partito Democratico di Eli Schleim, anche a Carlo Calenda, con Renzi mi sarebbe impossibile. Cosa? No, dico, costruire qualunque convergenza su... Ma guardi, Renzi, in questo momento ovviamente sarebbe disponibile a fare qualsiasi stampella alla maggioranza perché vuole portare, per quanto riguarda la soglia di sbannamento dell'Europa, dal 4% al 3%. Lei è contrario ad abbassare la soglia del 4-3%. Ma io rivolgo un appello alla Meloni, guardi, ma Presidente Meloni, fateci capire subito perché siamo ormai già in campagna elettorale europea, per convenienza politica, per avere qualche voto in più, voi volete abbassare la soglia di sbannamento del 4-3% per favorire a residenze di turno.